Juve Sampdoria, gara successiva, andiamo a vedere le immagini, si chiude il genere d'andata con l'ennesima amarezza per noi, 1-1, passiamo in vantaggio con Zigoni al 54esimo minuto, tra l'altro un bellissimo gol, ma 5 minuti dopo pareggia Sampdoria con Sabatini. Particularmente grave il commento di Castano, nostro giocatore a fine partita, perché dice quest'anno noi corriamo il doppio e rendiamo la metà.